Musica Insieme per un nuovo appuntamento con l'informazione dalla provincia di Monza e Brianza Vediamo i titoli del nostro telegiornale, anche il sindaco di Monza chiede il rientro in Italia di Laria Salis sia riportata in Italia in atteso del giudizio Pilotto è stato suo insegnante, era una ragazza mite, ricorda, lunedì fiaccolata in città È di 621 milioni di euro il bilancio di previsione triennale approvato dal Consiglio Comunale di Monza Servizi e triffe restano invariati nonostante il caro vita, spiega l'assessore Longoni E poi oltre mille alunni portatori di pace sfilano smate velate scuole unite per celebrare insieme la giornata della memoria e il giorno del ricordo depositati sassi arcobaleno Vediamo insieme i servizi Di Laria Salis sono stato insegnante e l'ho ricordata con grande sincerità come persona mite impegnata nello studio, era una persona che lavorava bene a scuola, aveva interesse, aveva gusto per l'apprendimento ma dai 19 anni in poi io non l'ho poi più riconosciuta Il sindaco di Monza, Paolo Pilotto, per decenni docente all'Iceo Classico Zucchi conobbe Laria Salis circa vent'anni fa, durante gli anni delle superiori ma ancora oggi ne conserve il ricordo E mentre si fa più forte l'appello per far sì che Laria rientri in Italia agli arresti domiciliari in attesa di una sentenza che potrebbe arrivare non prima del 2025 il governo starebbe lavorando a una relazione da mettere a disposizione della difesa per garantire sul proprio suolo la massima vigilanza e la partecipazione della docente alle udienze del processo in Ungheria Ho detto e senza nessun problema che esposo l'atteggiamento mi sembra molto equilibrato del ministro degli esteri che senza entrare nel merito del contenzioso giudiziario in atto ha proposto, ha favorito l'idea di un contatto fra i due governi perché la cittadina italiana possa continuare nello stato di attesa del giudizio presso la nostra nazione e poi eventualmente in caso di condanna scontare la condanna sul suolo nazionale Credo che da questo punto di vista la richiesta sia una richiesta razionale che non necessita un conflitto istituzionale fra stati ma in qualche misura è il segno della cura che uno stato si prende di un proprio cittadino Intanto anche Monza, la città dove Ilaria Salis è cresciuta si prepara a mobilitarsi per chiederne il rientro in Italia prevista per lunedì alle 18.30 una fiaccolata apartitica da Largo Mazzini a Piazza Roma È di oltre 621 milioni di euro il valore della manovra finanziaria approvata dal comune di Monza nell'ultimo consiglio comunale Nonostante i costi per le utenze ancora elevati, pare oltre 11 milioni di euro la Giunta ha concentrato i suoi sforzi sulla conferma di alcuni servizi e cantieri avviati già lo scorso anno a cui si aggiungono i nuovi progetti È un bilancio di tempi difficili, di un bilancio a inflazione alta è un bilancio con costi energetici alti e quindi riuscire a fare un bilancio, così cominciamo a dare la prima caratteristica che mantiene inalterati i servizi e mantiene inalterate le tariffe sia quelle che pagano le famiglie, sia quelle che pagano i professionisti penso ad esempio i commercianti, era importantissimo, era un segnale di stabilità nei confronti del patto che ogni comune sancisce con i propri cittadini L'altro elemento caratterizzante di questo bilancio è che è un bilancio che si muove sulle opere non solo quelle che erano state in qualche misura costruite tramite finanziamenti, PNRR o altro ancora ma anche opere che in qualche modo sono legate a sforzi interni ad esempio in questa estate partirà la scuola Bellani la scuola Bellani che va, voi sapete, smontata e ricostruita in blocchi oppure in questa tarda primavera e poi 24 e 25 si lavorerà insieme a un soggetto privato sulla nuova biblioteca di Cederna si continuerà con ad esempio l'ex corpo Borsa in Villa Reale è un bilancio caratterizzato da un tentativo di stabilità nei confronti dei cittadini so che sono tempi difficili e quindi si dovrà anche lavorare su alcuni avanzi di amministrazione però sono anche convinto che l'abitudine del nostro personale lavorare con grande testa sui conti e sulla spesa ci aiuterà a gestire l'anno molto bene sono stati oltre mille i giovani alunni delle scuole del territorio Brianzolo diventati portatori di pace nell'emozionante mattinata organizzata dall'istituto comprensivo Lina Mandelli di Usmate Velate un'iniziativa inserita nel programma del comune Brianzolo in onore del giorno della memoria e del giorno del ricordo scuole tutte unite nei giardini di Villa Borgia per depositare alcuni sassi con i colori della pace lungo il cordolo del sentiero pedonale e creare un simbolo di pace di circa due metri all'altezza dell'obelisco formando due genuini simboli di non violenza che saranno definiti in maniera permanente più di mille alunni su mille cento alunni del nostro istituto che vogliono essere testimoni non solo di fatti storici che hanno appreso sui banchi di scuola ma vogliono essere veramente testimoni di una identità collettiva che li porterà ad essere portatori di pace per tutto il resto della loro vita Una mattinata segnata anche dalla presentazione in anteprima dei leggi commemorativi che verranno posizionati sul territorio per favorire la riflessione sul giorno della memoria e il giorno del ricordo Una stele riguarda la commemorazione del 27 gennaio quindi la commemorazione di quelli che sono stati fatti che hanno riguardato la Shoah e le vittime della Shoah mentre invece la seconda è una stele che riguarda la giornata del ricordo che si celebra il 10 di febbraio e che riguarda invece quelle che sono state le vittime italiane delle foibe quello che è stato l'esodo istriano dalmato dei territori italiani sono due avvenimenti importantissimi che ci aiutano a fare un esercizio della memoria e del ricordo di questi avvenimenti e per far sì che quello che è successo in quegli anni più del Novecento non possa ripetersi mai Contratto, permessi, ferie, buste paga da controllare non sono più solo queste le richieste che i lavoratori rivolgono ai propri rappresentanti in azienda sono sempre più diffusi, spiega una nota di CGL, Cisle e Will problemi ad arrivare a fine mese richieste legate a disabilità e dipendenze la piaga del gioco d'azzardo e problemi di salute mentale la quarta edizione del corso Delegati Antenne Sociali va in questa direzione per rispondere a esigenze che riguardano la sfera intima e personale del lavoratore Abia Sono, una classe di 40 persone tra rappresentanti sindacali e referenti delle associazioni del territorio sta prendendo parte a una serie di incontri per ragionare su cosa significhi mettersi a disposizione dell'altro in modalità non giudicante tendere una mano verso un collega in difficoltà instaurare una relazione di aiuto e una modalità di ascolto attivo l'idea alla base del corso non è formare assistenti sociali ma fornire ai delegati delle competenze utili a fare il primo passo verso la persona in difficoltà per poi indirizzarla ai professionisti la formazione prevede anche una visita ai servizi territoriali competenti rispetto a temi sociali e di salute emergenti con l'offerta formativa proposta unitariamente ai nostri delegati come organizzazioni sindacali rinnoviamo l'impegno confederale per la rivendicazione dei diritti di cittadinanza praticando nella concretezza del quotidiano i valori della solidarietà e del mutualismo di fronte alle realtà fragili presenti nel mondo del lavoro e non solo, affermano i segretari generali di CGL, CISL e UIL territoriali termina qui questa edizione del telegiornale vi ricordo che potete seguirci anche sui social e sul nostro sito www.teleunica.com grazie per essere stati con noi grazie per aver guardato il nostro canale